Prova la conclusione, fantastico gol, un gol incredibile, un tiro eccezionale, vantaggio che comincia a essere molto comodo ora, e ha sfruttato alla grande questa occasione. Tecnicamente perfetto, non c'è che dire, ha messo la palla esattamente dove voleva. E ora ci sono due gol a dividere le squadre. Allungano le distanze.